Eccoci qui, ben ritrovati per una nuova puntata del Coraggio di ogni giorno. Il Coraggio di ogni giorno che oggi raccontiamo con le parole delle giovani generazioni, di quelle generazioni impegnate nel passato, nel mondo della scuola, oggi nel mondo delle università e in temi importanti come quello del conflitto, della guerra in Ucraina e soprattutto su quella che è la formazione appunto delle giovani generazioni a scuola. Ci vediamo qui, come sempre dopo la nostra sigla. Ed è un piacere per noi avere ospite nei nostri studi Pasquale Suffreda che accogliamo qui a Padre Pio TV. Grazie Pasquale per essere con noi. Pasquale è della Segreteria Nazionale del Movimento Studenti di Azione Cattolica, il MSAC, già ospite anche delle nostre puntate in passato, ospite di Just Today. Allora Pasquale, in realtà vorrei partire con te per parlare intanto del Movimento Studenti di Azione Cattolica, di che cos'è, ma soprattutto del tuo impegno, del tuo coraggio all'interno del Movimento Studenti di Azione Cattolica, che nasce un po' di anni fa. Abbiamo preso una foto di qualche anno fa, siamo tornati indietro nel tempo, la possiamo vedere, una foto delle tue prime esperienze con il Movimento Studenti di Azione Cattolica. Era appena nato il Movimento Studenti di Azione Cattolica nella diocesi di Manfredonia Vesta San Giovanni. C'era Monsignor Michele Castoro, che ricordiamo, e che per te ha rappresentato tanto per la nascita di questo movimento qui nella nostra terra, e che ti ha portato oggi a degli impegni a Roma. Grazie, felice per l'invito. Il Movimento Studenti è un'associazione di studenti che fa parte della grande famiglia dell'Azione Cattolica. Il mio impegno risale ai tempi delle scuole superiori ed è un bel regalo rivedere questa immagine sui nostri schermi, perché qui presentavamo il Movimento Studenti all'interno della nostra diocesi, dove io per tre anni ho ricoperto il ruolo di segretario diocesano. Questa foto è qualcosa di emozionante, infatti appena l'ho vista sono scaturite parecchie emozioni, perché qui Monsignor Castoro era orgoglioso di vedere la nascita di questo movimento nella nostra diocesi. E lui mi diceva sempre, quando poi voleva sapere un po' i passi e i cammini fatti dal movimento, diceva, voi sarete lievito nelle vostre scuole. Quando gli altri incontreranno la vostra vita, anche essi si innamoreranno di Cristo, perché lui ci vedeva come ragazzi pieni di passione, pieni di entusiasmo, che si mettevano al servizio delle scuole e della nostra chiesa diocesana. Poi successivamente, dopo alcuni anni, ho avuto l'onore di essere chiamato un servizio più grande nella Segreteria Nazionale del Movimento Studenti, con un incarico a Roma. Quindi sto vivendo ancora questa esperienza fino al 2024, che mi porta ad avere una responsabilità maggiore, ma mi allarga lo sguardo verso tutta l'Italia, verso tutti gli studenti e le studentesse di tutta Italia. Io sono davvero onorato di avere questa responsabilità e il cuore è colmo di gratitudine. La scuola, il Movimento Studenti di Azione Cattolica, appunto, in qualche modo rappresenta gli studenti in tutta Italia, gli studenti impegnati nel mondo della scuola. Quando questa esperienza è iniziata, tu eri appunto studente delle scuole superiori, oggi sei uno studente universitario. Com'è cambiato il MSAC in questi anni? E qual è l'impegno che oggi uno studente che esce dal mondo della scuola può continuare a dare, soprattutto alle giovani generazioni che fanno parte di quella che è la rappresentanza studentesca, rappresentanti di classe, rappresentanti di istituto, chi si impegna proprio all'interno della scuola? Il MSAC parte proprio da qui, parte con il motto di Don Milani, l'abbiamo ripetuto più volte, quello dell'Icare, mi sta a cuore. Uno studente si prende a cuore la propria scuola con l'impegno della rappresentanza, che può essere una rappresentanza di classe, una rappresentanza di istituto, oppure una rappresentanza di consulta, perché lui ha voglia di prendersi a cuore la propria realtà. L'esperienza del MSAC poi ti aiuta a crescere, perché ti fa diventare un cittadino dell'oggi e un cittadino del domani, quindi è quell'esperienza formativa che ti fa essere protagonista della propria vita, protagonista del proprio presente e protagonista all'interno del territorio e della tua città. Quindi è un'esperienza che ti aiuta a maturare delle competenze, delle formazioni, ma ti aiuta ad allargare lo sguardo sulla realtà, con il cuore e la mente rivolti verso gli altri e rivolti verso tutto ciò che ci circonda. Quindi è un'esperienza che parte dalle scuole superiori, però che continua poi a vivere dentro, anche se non si fa più parte del movimento studenti nell'ambito universitario, però è una parte della tua vita che resta per sempre. Ne siamo grati di aver vissuto questa parte, anche all'interno del nostro territorio diocesano, dove è in continua crescita, dove appunto la bellezza del movimento è anche quella di saper passare il testimone. Dopo di me ci sono stati altri responsabili che hanno preso in mano il movimento studenti all'interno della nostra diocesi, realizzando delle attività, accompagnando la rappresentanza. Proprio in questi mesi c'è un cammino di rappresentanza per aiutare gli studenti a vivere questo periodo con una maggiore responsabilità e con un impegno concreto all'interno delle nostre scuole. E poi ci sta vivendo anche un momento per formare, tra virgolette, i giovani a nuove scelte e orientare con un progetto Nord-Sud-Ovest-Est, appunto per accompagnare i giovani nelle future scelte che possono essere universitarie nel campo lavorativo. Quindi è una continua crescita, un camminare l'uno a fianco all'altro, da giovani studenti impegnati e innamorati del proprio tempo. Da ragazzo, non più adolescente, che però continua ad impegnarsi per il mondo della scuola, qual è l'immagine che oggi hai degli studenti delle scuole superiori, soprattutto di quegli studenti che escono dopo gli anni della pandemia, che almeno dagli ultimi due anni in qualche modo stanno cercando di tornare ad una vita normale? Ci sono delle debolezze negli studenti? Come li trovate? Allora, avendo questa responsabilità a livello nazionale, posso dire che ho uno sguardo più ampio sulle scuole del nostro paese. Ci sono tante criticità, stiamo avvertendo delle criticità sul benessere psicologico, sulle povertà educative, sull'inclusione. Si avverte tra gli studenti questo forte bisogno, ma c'è anche una voglia di ripartenza, una voglia di rinascere più forti di prima con l'impegno, con l'impegno che come Movimento Studenti cerchiamo di vivere ogni giorno, accompagnando questi studenti a vivere il proprio tempo e la propria scuola in maniera diversa. Abbiamo organizzato anche degli eventi, abbiamo raccontato proprio negli studi di Padre Pio TV, la scuola di formazione studenti, proprio perché prendiamo a cuore questi temi come l'inclusione, come il benessere psicologico, come la cultura digitale, come la transizione ecologica. Sono i temi in cui i giovani di adesso vogliono esserci, vogliono essere il presente, vogliono essere protagonisti. E quindi questo aiuta a vivere la scuola in maniera diversa, con uno spirito di impegno, proprio anche in ottica dell'Agenda 2030, che è nata alcuni anni fa con i 17 gol e poi noi ci abbiamo fatto un manifesto, dove gli studenti vogliono vivere una scuola in un'ottica di uno sviluppo sostenibile, in un'ottica di una crescita, di una cultura digitale e un'inclusione. Così possiamo vivere quei bisogni che si avvertono in maniera diversa e possiamo essere d'aiuto a questi studenti, a queste studentesse, che ogni giorno vivono le scuole del nostro Paese. Di questa agenda, di questo manifesto fatto sull'Agenda 2030, c'è stato un incontro, anche qualche giorno fa, era il 19 ottobre, quando una delegazione del Movimento Sociale di Azione Cattolica è stata ricevuta anche al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Abbiamo anche delle immagini. C'erano il Segretario Nazionale Lorenzo Pellegrino, il Vice-Segretario Nazionale Ludovica Mangiapanegli, l'Assistente Ecclesiastico Generale Monsignor Claudio Giuliodori e Don Mario Diana, che è l'Assistente Nazionale del Movimento Studenti di Azione Cattolica. Parleremo dopo, in realtà, di dove eri tu in quei giorni e di quale è stato il tuo impegno in quei giorni. Che effetto ti fa vedere oggi, appunto, il Movimento Studenti di Azione Cattolica in qualche modo accreditato, riconosciuto dai vertici dello Stato, dal nostro Presidente della Repubblica? Sicuramente è una grande emozione, forse ci riempie anche di un pizzico di orgoglio. L'abbiamo annunciato proprio negli studi di Padre Pio TV, che avremmo incontrato in esclusiva il Presidente della Repubblica, che possiamo anche dire, il Presidente Sergio Mattarella è stato un msacchino. Lui ha vissuto l'impegno nel msac, nella regione del Lazio, quando era uno studente. Quindi questo ci spinge anche un po' ad avere una carica maggiore per puntare in alto. Però essere lì quel giorno è stata una grande emozione anche per noi, che non eravamo presenti fisicamente lì. Perché a volte noi pensiamo che nei nostri territori non riusciamo a fare la differenza. Pensiamo che la nostra voce è troppo debole in un mondo caotico. Mentre in quel giorno la voce di tutti gli studenti e delle studentesse d'Italia era rappresentata proprio da Lorenzo e Ludovica, che hanno raccontato un po' al Presidente questo cammino. Infatti il Presidente voleva conoscere i passi a distanza di anni del Movimento Studenti di Azione Cattolica, come era il nostro impegno all'interno delle scuole. E poi è stata un'occasione bella perché abbiamo consegnato Scuola 2030, un manifesto per cambiare davvero. Questo perché è un manifesto che riprende a un punto, come diceva in precedenza, l'Agenda 2030, su uno sviluppo sostenibile, con 17 punti però rivolti al mondo della scuola, in un'ottica di sviluppo, in un'ottica di crescita. E la cosa importante è che questo manifesto parte dal basso, parte dagli studenti, nei circoli, parte dagli studenti all'interno delle scuole. Ed è caratterizzato da impegni concreti. Infatti il Presidente è rimasto molto entusiasta da questa cosa, che c'erano all'interno dell'agenda dei punti concreti, dei impegni concreti che come studenti vogliamo prenderci. Quindi è stata l'occasione per far arrivare la voce di tutti gli studenti e di tutte le studentesse alla massima carica dello Stato. Quindi è un'occasione unica. E possiamo dire che anche la nostra voce fa la differenza. Anche nel nostro piccolo possiamo fare la differenza, se ci crediamo davvero. In quei giorni le voci degli studenti del Movimento di Azione Cattolica sono uscite anche fuori i confini italiani, sono andati anche fuori dall'Italia, proprio magari nei momenti in cui il Movimento di Azione Cattolica incontrava a Roma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ne parleremo tra poco, ci fermiamo solo qualche istante per un piccolo spot pubblicitario e poi torniamo ancora qui per questa prima puntata del Coraggio di ogni giorno. Eccoci qui, ben ritrovati dopo questo breve spot pubblicitario. Siamo ancora con Pasquale Cioffreda, componente della Segreteria Nazionale del Movimento Studenti di Azione Cattolica, il MSAC. Pasquale, ci spostiamo dall'Italia, andiamo fuori dai confini italiani, abbiamo parlato di questo incontro con il Presidente della Repubblica e torniamo invece adesso su questa foto, perché proprio nei momenti in cui, in quei giorni, a metà ottobre in cui si incontrava il Capo dello Stato, tu eri insieme ad una delegazione dell'Azione Cattolica in Ucraina, insieme al Movimento Europeo di Azione Non Violenta, MIN. Qual è stato lo scopo di questa missione dell'Azione Cattolica in Ucraina, in un territorio, come sappiamo, particolarmente colpito in questo momento dal conflitto con la Russia? Qual è stata la percezione che uno studente, un giovane, ha avuto andando proprio su quelle terre, su quei campi? Sicuramente l'Azione Cattolica ha voluto esserci in questo carmino, in questo percorso insieme al MEAN verso l'Ucraina, perché l'Azione Cattolica vuole essere promotrice di fratellanza e con questo scopo abbiamo vissuto questa missione di pace in Ucraina. Qui è la piazza dell'indipendenza di Kiev, un po' il cuore, il centro, però abbiamo vissuto anche una missione d'ascolto in una terra martoriata, che secondo me è stata una delle esperienze più forti che custodirò all'interno della mia vita, che è Bucia. Abbiamo ascoltato dalle cronache che è stata una città bombardata, una città massacrata, e proprio lì abbiamo toccato con mano la sofferenza, abbiamo toccato con mano il dolore. Abbiamo avuto modo di dialogare con un parroco di una chiesa di Bucia, dove erano costruiti dei memoriali, circa 600 vittime di civili morti durante la guerra. E la cosa che resta più forte è vedere in quei memoriali le date che indicano giovani, date che indicano miei coetani, morti lì con il massacro del popolo russo. Si avvertiva in questa missione la voglia di essere ascoltati. Il parroco ci diceva non dimenticate ciò che hanno fatto a questa terra. Forse noi a volte non avvertiamo a distanza il dolore e la sofferenza che si avverte in questi territori martoriati, però stando lì, parlandoci, vedendo i suoi occhi lucidi e le parole tremanti nel raccontare ciò che hanno vissuto in quei giorni. E poi c'era una cosa particolare all'interno della chiesa. Il parroco ha voluto creare una mostra, possiamo definirla così, con delle foto che rappresentavano il massacro. E lui quando ci raccontava quei giorni, quando ci raccontava quel disastro che avevano avvertito, anche la traduttrice, perché noi avevamo una traduttrice, non riusciva a tradurci per la troppa emozione, per la troppa sofferenza che avvertiva nelle parole del parroco. E proprio in quella scena io ho avvertito dentro di me un forte dolore. Cioè sono riuscito a toccarlo anch'io, in minima parte, con mano. E questo mi ha permesso di essere più consapevole innanzitutto di ciò che è una guerra, di ciò che è una sofferenza. Però mi ha spinto ad essere un costruttore di pace. Quello che l'azione cattolica è proprio quello che vuole fare. Un costruttore di pace in maniera semplice, in maniera genuina, possiamo definirla così. Perché anche il semplice fatto di essere lì, di essere a Kiev, di essere a Bucia, in un territorio ferito, è un motivo di speranza per quel popolo. Perché loro vedevano nei nostri occhi anche una speranza, perché potesse cambiare qualcosa, potesse migliorare quella terra e quel dolore potesse scomparire. Poi qui abbiamo avuto l'opportunità di organizzare un convegno con alcuni europarlamentari italiani, alcuni politici italiani, tra cui Beppe Provenzano, la vice-sindaca di Milano, Anna Scavuzzo, Fabio Massimo Castaldo, un europarlamentare, insieme a europarlamentari del Parlamento ucraino, un convegno sull'istituzione dei corpi civili di pace. Quindi è stato anche questo lo scopo di questa missione, creare dei corpi civili di pace che possano in un certo senso mediare questi conflitti come organi esterni, ma che possono essere motivo di speranza e di sostegno alle popolazioni e ai civili. Perché riteniamo che non c'è pace senza concretezza, dobbiamo essere delle persone credibili, delle persone che possano donare quella speranza alla gente e al popolo che sta vivendo una guerra, però in maniera credibile. Appunto è stato questo lo scopo di questo viaggio. E in più possiamo anche definirla con una frase, non c'è giustizia senza verità. Vivendo quei luoghi abbiamo scoperto una verità che forse non riusciamo a scoprirla attraverso i nostri smartphone, attraverso le tv e attraverso le foto, perché lì c'è una verità anche, possiamo dirla, nascosta, ma che noi siamo riusciti a vederla e a toccarla con mano. In qualche modo avete proseguito quello che è stato già il viaggio, il mandato che anche il Santo Padre ha voluto fare in Ucraina per mezzo del suo inviato speciale, il Cardinal Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. C'è stata anche una preghiela universale per la fratellanza e per la pace. Vi siete proprio riuniti davanti alla Cattedrale di Chieve, che è una cattedrale ortodossa. Si parla spesso dell'unità dei cristiani. Qual è stato l'effetto in quel momento durante questo incontro in cui appunto cattolici e ortodossi si sono incontrati per pregare tutti per la pace? C'è stato anche un tuo posto, possiamo vedere anche l'immagine successiva. Avevi scritto su Facebook, troppo spesso ci si è dimenticati che la pace deve essere visibile per essere creduta. E lì abbiamo proprio fatto questo. Abbiamo reso una pace visibile, perché ci diceva il nunzio apostolico di Chieve durante il momento di preghiera, diceva voi siete riusciti a riunire tutti i capi e i pastori delle confessioni religiose presenti in Ucraina. Erano presenti tutti, erano presenti ortodossi, musulmani, cattolici e c'è stata proprio questa, un'unione in piazza a Chieve, all'interno di fronte alla cattedrale di Chieve. Questo è stato un motivo che ha reso visibile un po' alcuni tentativi di pace, perché, come ho scritto anche in questo posto, un costruttore di pace deve essere credibile. Quindi una pace si può vivere insieme, una pace la si può costruire anche, camminando l'uno affianco all'altro, senza distinzione di religione, come abbiamo vissuto in questo caso, ma pregando tutti insieme, con un unico desiderio, quello che questi popoli, questa gente, questi uomini, queste donne, questi bambini, possono incontrare un po' di serenità, possono incontrare un po' di pace, perché ne hanno davvero bisogno. E per tornare a parlare di Movimento Sunni di Direzione Cattolica, di quelli che sono gli impegni, e soprattutto i prossimi appuntamenti del Movimento Sunni di Direzione Cattolica, andiamo proprio su un prossimo evento che avete tra qualche giorno vicino Roma, Frascati, Orizzonte, Tracciare Rotte Coraggiose, eccolo qui. Il Movimento Sunni di Direzione Cattolica è in qualche modo una fucina di eventi, ogni anno ci sono appuntamenti, alcuni di questi anche fissi, ricordiamo la scuola di formazione a Montesilvano, proprio per studenti che si accingono a rappresentare i loro colleghi negli organi collegiali dell'università e non solo, di chi si vuole impegnare nella scuola. Invece di che cosa parlerete? A Frascati, qual è l'obiettivo di questo appuntamento? Questo evento, non mi piace definire l'evento, è un cantiere di bene comune, che vivremo insieme al settore giovani di azione cattolica e insieme alla FUCI, perché appunto vogliamo camminare insieme, questo è il nostro stile, quindi ci saranno studenti di scuola superiore, giovani universitari e giovani lavoratori. Per un orizzonte comune, l'obiettivo ci metteremo in dialogo con le istituzioni, con gli amministratori locali, con parlamentari, dialogando in maniera sincera per uno sviluppo delle nostre città in maniera credibile, così insieme con un dialogo sincero, mettendoci in ascolto e in dialogo, possiamo tracciare delle rotte coraggiose, però in questo cantiere di bene comune vogliamo avere uno sguardo verso l'Europa, perché l'Europa in questo periodo ci chiede di avere comunità più verdi, di avere comunità sostenibili, di avere comunità digitali, di avere comunità che includono e noi vogliamo tracciare queste rotte coraggiose proprio con questo sguardo, con uno sguardo ampio verso l'Europa, perché sentiamo forte il desiderio di appartenenza all'Unione Europea e lo faremo insieme, appunto come dicevo prima, ad amministratori locali, insieme a politici, perché ci aiuteranno a capire come può essere il nostro impegno, come può essere la nostra partecipazione all'interno delle nostre città, all'interno dei nostri territori, per prenderci a cuore quel bene comune che sentiamo spesso in tanti discorsi, in tante conferenze, in tante interviste. E noi lo vogliamo fare in maniera concreta, perché pensiamo che le parole possono aprire uno spiraglio, mentre dei gesti concreti possono aprire un passaggio. Questo è il nostro stile, questo sarà l'obiettivo di questo cantiere comune che vivremo tra pochi giorni, perché noi siamo i protagonisti del nostro presente, saremo i protagonisti del futuro, quindi lo possiamo fare solo in maniera responsabile, solo con uno stile di partecipazione, attivo e responsabile, con alla base anche la formazione, perché il movimento studente e tutta l'azione cattolica parte proprio dalla formazione, che è la base per tracciare rutte coraggiose. Grazie, Ascoli. Io vorrei terminare perché noi siamo a San Giovanni Rotondo, i nostri studi di Padre Pio TV sono anche a San Giovanni Rotondo e abbiamo parlato prima di una figura per te importante, torneri sulla prima foto e chiederei anche alla Regia se ci puoi aiutare e quindi ti chiedo, tornando su Montignor Michele Castoro che è stata una guida per tanti anni per questa diocese di Manfredonia a Veste San Giovanni Rotondo. Quali sono in tre parole le tre cose che ti ha lasciato e che oggi continuano in qualche modo a vivere su di te, sulle tue gambe? La prima parola posso definirla cura perché Monsignor Castoro è stato un pastore che ha avuto cura del suo popolo, ha avuto cura di me, ha avuto cura del popolo e di questa chiesa diocesana. Lui la prima domanda che faceva ogni volta che incontrava qualcuno era come stai. La seconda, coraggio, perché Monsignor Castoro a me personalmente ha donato tanto coraggio, coraggio nel vivere la mia scuola, nel vivere il mio territorio costile, non avendo paura di testimoniare la bellezza di Cristo che abbiamo vissuto nelle nostre parrocche, che abbiamo vissuto nella nostra chiesa diocesana, a persone un po' distanti, a persone lontane. Lui ogni volta mi donava questo coraggio che custodisco in maniera proprio preziosa. La terza parola con la quale posso definire il rapporto di Monsignor Castoro è stata quella passione, perché è nata nel periodo in cui ho vissuto attivamente anche l'azione cattolica e dalle sue parole, dai suoi gesti, dai suoi incoraggiamenti, come dicevo prima, è nata una passione dentro di me a spendere la mia vita, perché solo così sono certo che la nostra vita può essere ricca, una vita ricca di passione può condurci verso grandi orizzonti. Grazie, grazie ancora Pasquale Cioffreda per essere stato con noi, componente della Secretaria Nazionale del Movimento di Sanitazione Cattolica, grazie ancora e allora buona fortuna per tutti quelli che sono i vostri prossimi appuntamenti. Grazie, felice di tutto e arrivederci. Grazie a voi per essere stati con noi e noi torniamo come sempre la prossima settimana per una nuova puntata del Coraggio di ogni giorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.